Musica 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 Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video e ora mi vedo che sta frente che dios mio, buah Fatal, buah Buon chicos, benvenuti a questo nuovo video e in questo video vamos a hacer algo molto extraño con il mio gatto si lo vedo, come mi miro e buono, ho qui con il palo selfie perché stiamo qui grazie con Tobi perché va a reaccionar Oh, tu tocchi a mio talala Mmm, mi ding ding dong a distinti video a değ kr Misora un po' di comparte come poche persone le ho i credo di e e ho che Ora abbiamo messo un video che credo che lo vi mettere proprio con la pantalla Però vabbiamo a vedere già E le mettiamo a subire il volume un po' Credo che si può sentire qualcosa feo Però vabbiamo a vedere Vabbiamo a vedere come mi gattito quando sento a altri gatti maullare, eccetera Perché... Vabbiamo a vedere, abbiamo un po' qui la camera Per che si vede più Tobi, e abbiamo fatto E abbiamo fatto in play Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Mira come le haze Una gattita, Tobi Tobi è una gattita Tobi Perché mi mires? Mira Tobi, un gattito Mira, 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 se sta levantando Piensa che sta atras, piensa che sta atras Se puso nervioso Mira Se puso nervioso Tobi Tranquilo, tranquilo, tranquilo Mira come se pone Tobi Lo voy a sobar Para que se acomode Mira, mira ese Mira ese Tobi No, 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 tranquilo Mira Mira, mira Te ha puesto nervioso Míralo Alò, hay alguien Déjate engañar Tobi Mira, mira Uy Este si lo altero No se que estarà dicendo En lenguaje A tu no Pero Tobi Se quiere ir Y se me cae esto Ahí esta Tobi, tranquilo Se me cae Coño Ahí esta Mira Tobi Mira Se enojo Se enojo Se enojo A ver A ver A ver A ver Vamos a entrevistar a Tobi Vamos a entrevistar a Tobi A ver A ver A ver Tobi Dinos que se siente Ser entrevistado Nada Y que voy a sentir Payaso Y que piensas Sobre la reacción Que acabas de hacer Que tengo Hambre Y que ustedes Mucho me joden Le voy a decir A mi mamá Cuéntenos Sobre su vida Tobi Rama Que tal Ha pasado Estos días Con la familia Pues que es bonito Ser un gato Ja ja Dormir Comer Y cagar Ah Quiere mandar un saludo A alguien Si si Un saludo Para todos los subs Ahí yo también Soy sub Saludame Quiero decir Miau Tiene algo que decir Para los suscriptores Suscríbanse Denle like Compartan Comenten Puntúen Agreguen a favoritos Y síganme en twitter Arroba Gatito